Bella a tutti ragazzi, sono Aaron e sono qui quest'oggi con un video, diciamo così, serio. Allora, volevo anch'io, diciamo così, fare un commento su quello che sta succedendo su YouTube. A me, sinceramente, siccome sono un piccolo YouTuber, non interessa più di tanto. Però, interessa perché? Perché nel momento in cui io tra le tendenze mi trovo video, mi trovo video del genere, non lo so, prank, scherzo finito male, robe di questo tipo. E poi, non so, perché mi è capitato, non so, è la curiosità, per sbaglio, aprire il video, no? Di vederlo e c'è una, non lo so, mi è capitato due, tre mesi fa di vedere un video di questi qui che facevano uno scherzo con, uno scherzo a un amico, Praticamente che andava con la sorella, una roba del genere, più falso di non so che cosa, che si vedevano le telecamere nella stanza, lontano un miglio. Ecco, cioè, se capitano queste cose, veramente poi mi incazzo anch'io, perché dico, cioè, ma allora cosa stiamo qui a fare? A prenderci per il culo, perché allora la gente c'ha altro da fare. No, se dobbiamo stare qua a prenderci per il culo, è meglio che YouTube Italia vada da un'altra parte. Oppure i titoli fasulli, i titoli, quelli che si mettono per fare i click, i titoli che si mettono perché si vogliono fare view. E allora, cioè, io sinceramente, parlando nel mio caso, ho sempre utilizzato titoli, non, diciamo così, clickbait, come si usa adesso dire. Io ho sempre utilizzato titoli che, diciamo così, riguardavano il video. Non so, FIFA 16, goal incredibile rovesciata, il goal incredibile rovesciata c'è nel video. Cioè, il video c'è, c'è, scusate, il goal c'è nel video. Non che goal rovesciata, poi apro il video, mi guardo a nove minuti e non c'è un cazzo di quello che c'è dentro. Allora, queste robe fanno girare il cazzo, no? Oppure, i video di tendenza che mi devo trovare cagate, quello lì che mangia le caramelle, quello lì che mangia il... Ma che cazzo me ne fotte? Io ho la mia idea, quindi, se siete... non siete d'accordo, vabbè. Comunque, comunque. Adesso è saltata fuori sta storia di questo canale qui che è sbucato fuori, che sta creando scompiglio. Quindi, boh, vedremo, perché sinceramente è anche una rottura di palle stare sullo smartphone o sul computer, apri YouTube e tutti sti cazzo di video. Cioè, sinceramente, li elimino anche dai preferiti. Cioè, dai consigliati, li elimino tutti, perché cazzo è solo una rottura di palle, alla fine. Quindi, niente ragazzi, questo era un po' il mio pensiero, ero così un po' alterato, ma vediamo se qualcosa cambia. Naturalmente, questo problema c'è sempre stato, delle view, di queste cose qui, con youtuber molto grossi, con tanti iscritti. Però, sinceramente, io non mi comporterò mai così, forse non comportandomi così, perché sono ancora a questo livello di iscritti. Forse è questo il motivo. Perché se a quest'ora mi fossi comportato in maniera diversa, molto probabilmente avrei avuto iscritti a Valanga, non lo so. Però, c'è, questo è, questo è. Quindi, spero che questa cosa cambi, perché sennò veramente, niente, c'è, si cambierà piattaforma, si andranno a fare i video da un'altra parte.